sono ore drammatiche per una bambina di 5 anni scomparsa a firenze sono in corso da ieri sabato 10 le ricerche della bambina della quale non si hanno più notizie dalle 13 di ieri quando stava giocando con altri bimbi nel cortile dello stabile dove vive l'ex hotel a store occupato da alcune famiglie i genitori hanno subito sporto denuncia la bimba ragazzi scomparsa si chiama kata e di origine peruviane al momento dell'ultimo avvistamento indossava una maglietta bianca e dei pantaloni rosa lunghi le ricerche della piccola kata sono cominciate alle 11 di ieri sera i militari hanno più volte controllato lo stabile e le vie di intorno con l'aiuto di due unità cinofile una della vabb e l'altra dell'arma fatta arrivare appositamente da milano resta ora da capire anche da un esame approfondito delle immagini catturate dalle telecamere della zona se la piccola si sia allontanata dallo stabile per tutta la notte la madre della bambina che al momento della scomparsa non era nell'abitazione perché era impegnata al lavoro ha seguito lo svolgersi delle ricerche stando in strado sulla porta del palazzo insieme ad altre connazionali